Per capire come, perché capiterà a tutti voi, come ovviamente osservo io, continuiamo a vedere insomma le vicinanze della raccolta dei nostri, della raccolta differenziata o la bottiglia di plastica o la damigiana volata dell'olio lasciata lì, quindi oltre ad essere come dire anche ovviamente approfitto nel tema del decoro, ho voluto scrivere nell'interpellanza anche il rischio perché comunque è riconosciuto completamente il filante. Ieri in Consiglio Comunale da parte della consigliera Barbara Penzo, Partito Democratico, è stata presentata un'interrogazione diretta all'assessore De Perini riguardante gli oli e esausti. La consigliera è partita dall'aver notato l'abbandono frequente di bottiglie contenente oli alimentari esausti nei pressi delle isole ecologiche, potenziali fonti di pericolo per l'ambiente ma anche per la sicurezza, in quanto nel caso in cui vengano spanti possono rendere scivolose le pavimentazioni, facendo rischiare la caduta a chi inaspettatamente si trova a camminarci sopra. Con l'interrogazione Barbara Penzo ha voluto richiedere una maggiore informazione alla popolazione per quanto riguarda i danni ambientali che l'olio esausto può provocare e alle modalità di smaltimento, chiedendo altresì che vengano posizionati altri punti di raccolta. L'assessore interpellato Serena De Perini, grata che si sia acceso un riflettore su questa problematica che può diventare fattore di disastro ambientale, ha ricordato che ancora nel 2022 era stato organizzato un convegno presso l'auditorium San Nicolò, che ha coinvolto le scuole a carattere culinario, proprio per coinvolgere i giovani potenzialmente interessati dall'argomento, spingendoli a mantenere comportamenti virtuosi e a diffonderli. Il convegno aveva visto la partecipazione del CONOE, Consorzio Nazionale Raccolta e Trattamento a Oli e Grassi Vegetali ed Animali Esausti, il quale aveva spiegato gli effetti deleteri dovuti allo spargimento di olio alimentare esausto nell'ambiente, anche in piccole quantità. Nell'occasione era presente anche Veritas, che aveva spiegato la seconda vita dell'olio esausto, che può essere trasformato in un biocarburante, già utilizzato nei vaporetti di Venezia. L'olio esausto alimentare viene raccolto per il 65%. A Veritas giungono 11.900 litri da utenze civili. Le utenze commerciali preferiscono rivolgersi ad altri canali. Veritas, ha ricordato l'assessore, per le attività di ristorazione e somministrazione procede con il ritiro porta a porta, mentre le utenze civili devono provvedere a portare l'olio esausto nei due punti di raccolta, ecocentro in Val d'Ario e sede Veritas, punti che sono presidiati e che non possono essere oggetto di vandalismo o altro, viste le caratteristiche fortemente inquinanti del prodotto. L'assessore ha valutato con Veritas l'eventuale aumento dei punti di raccolta per ovviare in primis alla scomodità per l'utenza, ma al confronto con altre realtà che utilizzano metodologie diverse per la raccolta, è stato dimostrato che le problematiche non verrebbero eliminate. Pertanto, nella scelta, al momento ha preferito il decoro, riservandosi di fare un ulteriore incontro con Veritas per valutare altre migliorie nel servizio. Resta la possibilità di aumentare l'informazione al pubblico, con incontri o volantini esplicativi abbinati alla bolletta. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia Grazie a tutti.